Considerate che tutto ciò è veramente improvvisato perché noi non ci vediamo da quattro, da quattro, da quattro, da quattro, da quattro Siamo dieci Sì Un po' di più, però... Va bene, ecco, è come se ci fosse così Non ci basta, invece suoniamo l'aria e sto finalmente tirando fuori il suono e sto facendo capire qual è l'essenza del virus Perché? Il problema è che sembra facile suonare il virus e in effetti non è difficile, solo per me è difficile fare gli assoni e mi scuso per quello di l'eserro del virus sono seriamente paranoia imparizzata perché sono una demuttante rinforza e adesso... ma... sembra facile non ce la suonare così pure ma non è suonare la foto perché ha anche il gusto suonare con le sanno con l'eserro All known No, no, no. 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 No, no.